musica 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 maccio la mamma maccio la mamma e che ciò in grado o no le persone stannoーチonando giovani quando si parla chiamava le veste lei si riuscita leino che mi pontevano e le parole le parole è a BIOGES se quello è il BIOGES è tutto quello che non ti so non ti so mi sponso ma io mi preso un sponsor e ti so mi preso ma io mi preso sono i miei buoni che non ti solle se questa cosa non ti solle ma io non ti solle non ti solle l'esponsor si inizi e allora ci sono una squadra non ci si succede in colonna non ci sono i coronavirus, non ci sono i bluetooth 良ko che ci sono anche i virus ma è lì allora ti sono i virus, ci sono i virus non è il virus? dicono che si è il virus abitura l'antibale, non ci sono gli altri e ci sono anche le persone tutto tutto e come una volta nella mia morte ha detto che avviene dei coloni Aggiungi meno le tue oggi se fa un po' a tutti e credito che avevi a un po' azzurro e no vi ha bello a pensare che abbiamo detto e come le ragazzi perchè ne creerà se troppe 37 si avvicinano il fatto che ha avvicinato se ci fanno sa attenzione che nessuno ha fatto questo mi capito. Mi c Austro vado, non si vedi. Mi chiamo prima. Mi chiamo prima di casa di casa, ci sono della macina perché sono alla scuola del nostro lavoro! Ma sono tutti ugilii! Mi chiamo di casa, e non mi rilasciò di stare in cambio, che sono tutti ugiliiівacanti e non gli appartieni! Un giovane ma che si tratta di incociare! Sì! Si quest'anno, La prima volta, l'onio si traccia. Chia che si traccia a mementare, con te sticchi, con chips, con un po' di chiusi. Si, ci sei stato che fa ma tante ferie, l'onio si traccia. Non c'è che tu sia un uomo che si traccia. La macchina e la vicenda, non c'è un ca' qui? Il nostro non è il problema. Il problema è che qui si traccia, ma è un problema. Non è il problema. Non è il problema? Sto bene? Mi congla! Mi ha detto che mi hanno scoperto? Sasa, adesso vi ho imparato? Ti ho capito? Caraca! Si vedi un po' di riconosciare la storia? Si vedi? Si vedi tu vedi? Si vedi tu vedi. Tu vedi tu vedi? Tu vedi tu vedi? Asi tu vedi tu vedi tu vedi? Tu vedi tu vedi tu vedi? Ah! Come vedi tu vedi. Tu vedi tu vedi tu vedi? No! Ha! Anato a sguve napatica con un gionio. Non, 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 non. Cosa inizia come mostrami? Si parlano delle cose? Non si parlano di cosa? Ma se quali due a la scuessa? Non si parlano di un'azienda, un'azienda, un'ambio, un'ambio? Ho 8 di telefone u'washi? Non si parlano del' smash? Ma suono, non si parlano di cum. Aspera una risposta, la ricetta, un'azienda, un'azienda che ha il fatto. ma che un poch a incognito, come reagio di 저, ci sono delle cose che si ho portato la pola il loro passi e l'usia è un poch a incontito tutti i nostri a incontito che si hanno diventato su嫌lla che si è stato fatto che si sono un poch a incontito non sono ancora il loro anche si è 유mini non sono così ma è un poch anagliore che si è un poch anagliore non sono così che si è avvenza non siamo così è un poch anagliore ma si è un poch anagliore il loro porose il loro si è uno Mi raccoglie, mi fanno un po' di parte. Mi fanno così? Sì, mi sono più grande. Il che era il mio mio materiale? Non, non. Si stai connessione, mi sono andata connessione. Non ci sono di più, ma è che per me è attenzione. La connessione è in una chiamcata. Non ci sono? La connessione è in una chiamcata. La connessione è in una chiamcata connessione. Si usavano a un'unica, si usavano a un'unica? Ma è in un'unica? Sì, questo è diva, diva. Si, diva, diva è diva, diva, diva. Diva? Che ci si trattano? Diva, diva. Diva, diva. Che faccia? Diva, diva. Sì, che ci si tratta di questo? Diva, che stai? Diva, che stai? Loveless Ah ah Mi usi mchangani hivu Nataka nikuwabie Sim, yu inastaki kumijua Mimia mtu mzonguzia lulululiva Meno hivu pandanapandana vile Angekua so msanii ule dada Angekua imbi Unavumuna Angekua nafanya kasi gani ule iani mtani Huku na huku nikitini kukutazama na chukiona Angekua ikusaluni pali mama Ndolatipanyapanyatina mogwese club Angekua taluma lule lululiva hana Minapumuna angekua mbea tu Kua mbea atas nikeweza Alakini napukambea kwenye masu ala scrub Tukutapaka foray Eeeh Eeeh Mungu fundi mwana Ah kinkine Nanii yeti malaika malaika Laluwa laluwa Malaika Malaika nyindia Malaika nyindia Malaika nyini ule Malaika malaika kwenye Malaika malaika kwenye Nandumana lulu kutua kwenye leli Kipako Lulu gani Lulu yasukutua mbuse mbuse Lulululiko Mungu lulu maiko Lakini tisa kundu Tisa kundu Elekce watazama Lakini unaona kapisa huyuu Kama wangekua asikari Luba o wangekua mbuse Te? Te asikari Sungusungu Uwela angile asikari gani Asikari miakaota anawili E' statonitutto molto invece. Però ho fatto che si accadeva bene, perché conosco l'obRI Jonze. Jonathan, mi ha fatto con il Trap. Lo che è fatto con il Trap. L'obri Jonze di Trap! Quindi fanno condannone il mio abitamento, per quanto riguarda 5 minuti. Ma domanda, a una volta con il Trap Fazzari, farò visto, stiamo su un Kwe. si non si finisce sempre. ma sono state tutte le punte ma non è interessante ma si è troppo ma si è nata ma che inizia dobbiamo fare tutto ma non, potremmo fare tutto mi piace? questo persona dice che me piace? ma non è l'ho perché io l'ho ricordato la mia risposta se ha raggiunto Sì, questo era il mio scato, la posto di quello che gli uomani. Gia abbia pieno di origini che le scrimi da scritte. Perché? Non mi fosse che, ma non soli. Ma non, non, per quanto vuoi fare il mio cane, non mi stavio di andare a vedere. Per quanto riguarda, ho saputo che i loro anche, dovessi di fare farlo. Ah, per la sua parte di le grado, quattro che ci dice il mio cane. Non c'è un po' di più, un cane di tutto il mio cane e da lo scuola che fanno. Si è vasto, il mio uilio. Aè! Chiava! Li�ie che cosa si fa, che non mi sono mai rinito. Mosco ha un'aria un'aria uguale. Ma non mi sono mai rinito, e' un'aria uguale a un'aria uguale. Ma acho ma kubwa, unama tickola, un'aria uguale. Per il mio uomo oleno, come ma mambo! Un'aria uguale, un'aria uguale, un'aria uguale. Chiari è uguale, è uguale. Chiari p marchi ha uguale. Ma l'aria iniziata alla chine. E' io ma soli qui usi ma soli jinsi si si tu non l'avo che fosse la live se la chấmessa pola O una cosa che fa 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 face E' che fai messia il ragazza di un ascolto Lo ma io non le tu la cucuolo La mia pensia il ragazza di un pezzi è un po regazzo che parlava Da li ho anche il fia E' il fia demasiado Ma il fia molto vicino Il fia molto nulla nato lì come il sogno io sei male mi ho chiamato.. mi ho chiamato alla della Hydro mi ho chiamato all'inizio? no, già qui mi chiamato poi adesso quando mi coloco mi coloco nonpelo.. questo mi coloco mi coloco vedi le cittiniche niente così, ma ho parlare di quaderno zea che mi coloco Segui il fatto un po' di inizia, poi siete alle due, vedi alla due. Sì c'è un po' di inizia che si c'è un po' di inizia. Mi ho accroché come a Roma! Non, è un po' di inizia! Non, io ho accroché! Non, io ho accroché a superare la mia, ma mi ha accroché a raggiù celui che era inizia. Inizia il maio che c'è, ma non mi ha accroché… Ma vanno facendo un po' di inizia scheme? Di inizia, è una cosa che p faut fare! È un po' di inizia! Mi colore messia, la mia mia, Grazie a tutti.